Ciao, sono Annalisa e leggo Presdonna. Può un uomo interpretare fino in fondo il mistero della maternità e dare voce ai sentimenti di una mamma che stringe per la prima volta fra le sue braccia il suo bambino? Puoi rispondere a questa domanda leggendo il libro che ho scelto nella biblioteca di presenza donna. Harry De Luca, in nome della madre, Feltrinelli editore. Harry De Luca affronta qui il tema della maternità, la mamma speciale è Maria, il bambino speciale è Gesù. Lo scrittore immagina un colloquio silenzioso ricco di sentimenti e nello stesso tempo drammatico di Maria col suo bambino la notte di Natale in una stalla sola e silenziosa. Maria ripercorre le vicende che l'hanno portata fino a questo momento, Maria vorrebbe essere una mamma qualunque con un bambino qualunque fra le braccia ma sa che il destino di Gesù è altro e per questo prega e per questo comprende che questi momenti saranno forse gli unici in cui lei sarà davvero una mamma e Gesù sarà davvero solo il suo bambino. Prega dicendo è solamente mio, è solamente mio, finché dura questa notte è solamente mio. Harry De Luca, in nome della madre, puoi chiederlo in prestito alla biblioteca di presenza donna, trovi tutte le informazioni a video. Leggi Presdonna.